Questa notte ho fatto un sogno strano, ho sognato di essere il famoso pasticcello e stato preparando una cosa da donare a tutti gli uomini e le donne del mondo, piccoli e grandi. Ho chiesto gli ingredienti necessari ai bambini, perché i piccoli sanno essere generosi, che sono sempre pronti a dormire. Ecco qua la ripetta, leggera e impazzabile come la farina. L'uovo a pelle già, perché le ognuno ci vede a voi. Succoli in abbondanza, per spazio e dolcezza tra di noi. Una generosa dose di puro per ammorbidire con il perdone e quali tutti. Una scornerata di cacao, per colorare il rispetto, il nostro interesse e le nostre pavere. Siento quanto basta per crescere tutti felice. Con una bella mescolata e con il calore dell'amore, ho sfornato questa torta che da una parte ad ogni cuore. Il pasto va trattato con determinati...